Le comunicazioni sono tre, la prima è che settimana questa si riunisce, si prova a riunire un'altra volta il tavolo Tasse per la famosa manifestazione da rifare sull'argomento Tasse Mutui eccetera. In concomitanza dovremmo avere entro lunedì la risposta per l'apertura di questo sportello al cittadino, impresa, cittadino e impresa per creare questi gruppi d'azione sulle banche, sull'agenzia delle entrate, sull'Inps eccetera eccetera. Ora i giorni deputati potrebbero essere mercoledì, il problema è che contestualmente è stato richiesto da alcune persone se si fa un'assemblea soltanto di farla il sabato e non il mercoledì. Quindi sarebbe il caso di prendere subito una decisione in modo tale che in conseguenza di questa assemblea il sabato e non il mercoledì si possa fissare poi tutto il calendario della settimana. Secondo, la seconda comunicazione è che quindi teoricamente il tavolo Tasse si riunisce mercoledì. A che ora? Aspetta, qui ci sta l'assemblea? Ora? Ma se c'è l'assemblea è così? Se l'assemblea si può ascoltare al sabato... Scusate, ma ce l'abbiamo ascoltata una volta. Allora, il sabato... Andiamo solo in noi.